Salve a tutti ragazzi, qui l'Acting Productions e io sono Joseph Io sono Eddie E vabbè, c'è ovviamente Carmine perché stiamo registrando di seguito al video precedente Infatti Vabbè, ovviamente lo posteremo in giorni diversi Comunque questo è il... Ma come si fa? Vabbè lasciate perdere Madonna Ci sono semplici si scarsi dell'altra volta ragazzi Semplici si nampetti I nampati nampetti Devi ricordare Luna Allora Quattro contro uno No Aspetta Siamo due Sempre con il nostro caro amico Brandon J. Lee Vabbè Comunque Uomo scelgo io Eh vabbè Chi ti uscite Joseph? No non lo prendi sinnegato Prendi il coyote giusto per fargli vedere che non siamo questi Ah sì Ehi c'è un... Ci piacciono le chiappe di questa Ah beh sì, diciamolo Carmine che è perplesso Ovviamente vi faremo vedere la... Le chiappe? Madonna mia Comunque siamo già a livello 4 E... Dieci minuti fa eravamo a livello 1 Eh? E Brandon J. Lee Tra poco c'è il trofeo del livello 20 Sì Che sarebbero... Ci sono 36.000 punti esperienza a livello 80 Ma io me li mangio Se ne do 36.000 punti esperienza Allora, eh sì Sono qua Allora partiamo subito all'attacco Tutti in attacco Allora Ehm... Riguardo alle mappe, no? Ci sono delle mappe che io odio Tipo questa Non tanto però Lucreotallius sai per quale è bello? Che caccia all'uomo Eh... O caccia all'uomo oppure quelli singoli Tipo Però proprio assalto a manufatto è scomodo Perché Qua è troppo coperto Eh, l'area è troppo un casino Guarda, cioè non si riesce proprio a entrare Eh, per evocativo Allora, perché sono io Tengo lì il fatto che non è andato mai Sto occhio a passare Ah, eh Vabbè, ora mica ce l'hai No, qua no, perciò lo disegno Mi uccidano Non si devono permettere proprio La confidenza non si devono... Quindi Ehm... E poi ci sono zone come per esempio Piantagione della Virginia Fort Walcott Punto Mostri Diarecine Che, eh, come dire Si... Si prestano, si vuol dire Sì Sì Eh, se ne sono a qualunque tipo di La squadra nemica ruba Di come dire Di... Di tipologia di gioco Nel frattempo questi ce l'hanno messo al culo Mi fattempo non capisco chi è Vai, bugs, i bugs No, mi sa che ti fa questo Vai con calma Ma lo sto fatto che cadono i passanti Non ti ho disabitato Allora Proviamoci la per i titti Proviamoci Sì, sì E vedete il problema E' proprio il secondo La seconda volta Secondo per questo Ma sono Borias Che è Borini qua Vuole fare sempre questo punto Ma chissà in difesa Sta con il meno 37 Borias è 17 Eh, lo dovrebbe prendere A rigor di logica No, ma perché in realtà Con il nostro amico qua Dove sta? Ma te pareva che segnava, eh Non me l'aspettavo Io ho già fatto la doppietta Perché non sape di me Io sono più forte di Borini Ho già fatto la doppietta No, ti fanno fuori D'abbaccio 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 Ma l'avamo come oggi Non sono abituato Eh, vabbè ragazzi All'inizio per noi ha un po' Eccolo là In quadratura Vabbè Guardate La forma Che Eddie piace molto Oh, ma che stanno facendo Ma che schifo Madonna Bella Ciao Maizo Sto progetto Sono un po' difesa Cosa c'è un bonus Di uccisione Sì, sì Facciamo qualche bonus In più Evitiamo di pigliare punto E poi di essere un peccato Eh, Boris Eh, guarda Ma dovessimo difesa Questo sta in difesa Madonna Non c'è lui Non è stato fare con questo Ma questo Ho capito Che è questo Oh, ma ha fatto Io ho il premuto quadrato Vabbè, lasciamo aperto Buono Ci serve io Oggi nella terra Oggi nella terra È sempre utile Non potete capire L'assio Che provo Per le persone Che tipo Ti stordiscono Mentre si trasformano Non sto capito Oh, incognito Ci servirebbe Però Eh, madonna Annaccia a lui Poi l'animazione Ci servirebbe proprio Ucciderlo Cos'era Pure il cotto L'aero Ghiadalaggio Ghiadalaggio Ma perché non so Bisogna Ghiadalaggio Oh, ma che c'ha Velocità 2000 Questo Madonna Annaccia a lui Già No, vaffanculo Dai, Cristo Mamma mia Ma mi hanno proprio Chi è che la risola Livello 29 Dai, livello 29 Ora ti metti una pistola Madonna mia Io livello 29 Non avevo armi Dall'anaccia Vabbè, va Andiamo a lavorare Vai Mi vado per i titti Oh Sì, va Mi uccide l'uno dei titti Vedete se passano Qui si passano Poi di qui Sono rabbi Eh Vabbè 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 Sono rabbi Come me Cominciano Diranno No, dai Ma se mi uccidono Questa volta Mi cazzo Oh, da quanto Siamo fermi Su sto punteggio Qua Sta qua Sta bloccato La dentro Questa notazione Ah, ok Tanto sono scarso Oh, dove sta questo Oh Oh, ma te pareva Ma che Ma che micchia sta facendo Eh, prendo Bravo, prendo No, ma non Mi uccidivo E che cavolo L1 Allora Non mi direi che Boh, rigas Come si chiama Lancia, lancia, lancia Oh, com'è che me è caduta Ma che cazzo Ma non è mai possibile Nulla in questo mondo Di merda Ma non sono neanche primi Che schifo Che ho fatto fino ad ora Il gioco di merda Vabbè E di quando perde Fa così Ma il gioco non è proprio bellissimo Quando fa così No, dai, è fatto No, il gioco così Ma quando fa Quando gli avversari fanno così Il gioco Vi andava schifoso Ok, dai ragazzi Iniziamo Ragazzi Poco per ora la gente Fa di entrare il gioco Fa perdere punti Dove c'è sto Sta bella ragazza Frucetto Una nostra più bella Ok Carmine Maizzo Aspetta che Mazzo Solo mazzo E non è una battuta È la verità Dai per vie centrali Che ce ne frega Che vuoi il frocetto E questo qua Mi sa che ha capito Fa un culo Darci sua Oh, quanti ce ne stanno? Quattro, cinque Se magari venissero un po' qua Accordiamo Devo accordare ragazzi Per esprimere Accorda Non devo correre la chitarra Accordare l'accordo Ah, devi fa l'accordo Che accordo Ragazzi che accordo Ci vedono ce ne ho Fammi sul minuto Ok, ora ci ammazzano Ok Allora ragazzi Eh, vaffanculo Perdiamo Eh, perdiamo Prendiamo Punto Allora Dai, dai Ok, bravo Si bebolle Si bebolle Si bebolle Fermo Allora Ma perché sti froci sono froci? Fai punto, fai punto Ma No Ah, ho ucciso Tetti 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 Allora Ora ce ne saltiamo di qua No Ma sto gioco indica Pado Proprio No Ogni riferimento È puramente casuale Alfa La pistola Eh, si Si può prenderla Nello Culo Livello 6 Ragazzi Nel Miracolo Ma che cazzo Miracolo Adesso Gesù Gesù Si dai Gesù No, no Carmine Carmine Eh, non si dicono queste cose Queste cose brutte Ok ragazzi Tutti pronti Attacchiamo Facciamo come le Le grandi squadre fanno Tutti in attacco Scartiniamo Boryas Allù Tu mi devi far capire una cosa Eh Ok Ma Muoce trovano No Ma vaffanculo Ma i nabbi usano la pistola Tra cui me Tutti Tra cui me Stola Ragazzi Però ragazzi Non si può cantare In questo modo Cioè Fanno proprio Sovergoglioso Che faccia di cacchio Ragazzi Campeare così Per quanto possa essere utile Per fare punti Si Non è divertente Come si fa a essere così Cioè Io ho corso Mi è passato a fianco E manco Ma vabbè Ma dove sta Ma è sto Dicendo Ma che cazzo Ma io non l'ho capito Stato coloro Ma io non l'ho capito Dai come funziona Però cioè Fatemi capire un po' Puro a me Stiamo vincendo Stiamo vincendo Stiamo vincendo Ah no Oh la mia stalla Stalla testa Sopra il tetto Pugliano Pugliano Qui è da lancio Pugliano La film Si vanno a scendere Pugliano La pace Oh volevo fare la pace Però Atrobatica Buona Abbiamo fatto Cina a terra Si Cazzo Che ci serve Non lo so Ma no 30 secondi Non è giusto Per un po' Secondi Aspetta Prova a fare Roba tipo silenziosità O che un po' Così Cercheremo Non è giusto Non è giusto Non è giusto No Non abbiamo Non abbiamo Ciò Vabbè ragazzi Stavolta non l'abbiamo fatto Abbiamo No Non ce l'abbiamo perso Immediatamente Non ci sia Della Deveva Ma si abbiamo vinto No L'activo Vinto Si Si abbiamo vinto La sessione Abbiamo Ti ti frega Si perde la squadra Come Lo do Ti Abbiamo Straminto Eh Per citare Un famoso video Sempre di Assassin's Red E Questa Ma quanto è brutta questa di faccia La squadra è arrivata a seconda Noi siamo mostri Che ce ne frega Siamo più forti E abbiamo Il goloso Comunque Ci piace Comunque ragazzi Questo è il Il secondo video Della serie Su Assassin's Creed Speriamo vi piaccia Che la seguiate E che Continuate a seguirla Continuate a seguirla E vabbè Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao